Spara per gioco al gatto del vicino e lo ferisce gravemente. Denunciato un 37enne residente a Picciorana da tempo dedito a questa attività. Non si raggiunge il numero legale, salta il consiglio comunale. Maggioranza impegnata con il sindaco in una riunione fiume sulla questione sfrutatori. Biomasse, allarme smog, aria pulita lancia un appello al sindaco. Si revochi l'autorizzazione degli impianti. Tutto facile, Rossignano, Rossoneri a meno 4 dalla vetta. Decide una doppietta di Brega e il gol di Canalini per un 3-0 calzapore dell'alta classifica. Buonasera, in apertura del nostro telegiornale La Politica. È saltato ieri sera il consiglio comunale per mancanza del numero legale. Gran parte della maggioranza non si è infatti presentata. Fissato per le 20 e 30, alle 21 erano presenti quasi tutti i membri dell'opposizione e soltanto 4 esponenti della maggioranza. I consiglieri erano impegnati in una riunione fiume con il sindaco Tambellini. I dettagli della vicenda nel prossimo servizio. La bufera sulla nomina degli scrutatori prima, la dimissione dei membri della commissione che li ha scelti e lo tsunami Grillo poi, che ha colpito anche Luca creando qualche mal di pancia sia in maggioranza che in opposizione. Non si sa se a queste problematiche è riconducibile il fatto che il consiglio comunale è saltato per mancanza del numero legale. Gran parte della maggioranza non si è presentata. All'ordine del giorno, l'approvazione di due pratiche fondamentali per il bilancio previsionale 2013. Il regolamento IRPEF e il piano delle alienazioni dal 2013 al 2015. Convocato alle 20 e 30, il consiglio comunale inizia in ritardo. 12 consiglieri presenti. È stato Marco Martinelli, leader del gruppo BDL, a richiedere la verifica del numero legale. Presenti soltanto Lenzi, Mercanti, Sichi e Bini e così il consiglio è stato sciolto. Dopo 45 minuti dalla convocazione sono arrivati gli altri consiglieri che però hanno trovato le porte chiuse. Erano con il sindaco Tambellini ad una riunione di maggioranza convocata urgentemente per discutere della vicenda degli scrutatori parenti di politici della maggioranza. Per il sindaco la sua maggioranza tutto è stato condotto in termini di massima trasparenza. Nel corso della riunione Fiume è stata anche espressa solidarietà nei confronti dei sei tra figli, fratelli e fidanzate al centro della vicenda scrutatori. Non ha risposto all'appello Pietro Fazzi, consigliere di Liberi e Responsabili, che è rimasto in attesa del numero. L'opposizione tira comunque dritto e non crede alla coesione della maggioranza. Come spiega Marco Martinelli, capogruppo del PDL, sta a loro garantire il numero regale. Evidentemente questa maggioranza, commenta subito dopo la sospensione della seduta a Palazzo Santini, è in difficoltà, chiaramente per divisioni interne. Altrimenti non si spiega perché in consiglio alle 21 non ci fossero che pochissimi rappresentanti. Passiamo adesso ai commenti post-elettorali. In attesa di un'intervista vis-à-vis abbiamo raggiunto per telefono Stefania Giannini, nel frattempo rientrata a Perugia all'Università per Stranieri di cui è rettore. La linguista e glottologa lucchese commenta così la sua lezione al Senato con la lista scelta civica di Monti. Per essere soddisfatta, naturalmente, devo attendere la rinuncia di Chino e la formalizzazione della mia lezione. Ma è una soddisfazione solo personale, perché come risultato politico mi lascia molto amare in bocca. In questo senso non sono d'accordo con il nostro leader Monti, che si dice contento di una percentuale intorno al 10%, perché il nostro interroguardo è ampiamente migliorabile e, puntando alla governabilità del Paese, avevamo bisogno di un supporto ben più vasto. A Monti è stato fatto fare il lavoro più ingrato di ristanamento e certe scelte, se l'elettorato non è maturo, non pagano. Aggiungo che abbiamo avuto solo 45 giorni per presentare un partito nuovo, non organizzato e senza strutture sul territorio. Delusione per il risultato generale, perché in sintesi la scelta degli italiani è stata tutta il vecchio di 20 anni, sia a sinistra che a destra, più grillo. In questo scenario noi entriamo solo timidamente. Spazio adesso alla cronaca. Un 37enne residente a Picciorana ha sparato ad un gattino procurandoli grave lesioni. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Sentiamo Silvia Toniolo. Un modo singolare di passare il tempo. Un po' per noia e un po' per divertimento. Un 37enne residente a Picciorana ha sparato ad un gattino procurandogli lesioni gravi al fegato, alla milza e all'intestino. La segnalazione è arrivata al 113 direttamente da una persona che segnalava di aver trovato il proprio gattino agonizzante. L'animale aveva conficcato nel corpo un proiettile di una carabina ad aria compressa che è stato estratto e consegnato alla polizia. Con la denuncia da parte del proprietario, le immediate indagini dei poliziotti della volante si sono indirizzate verso il cittadino, indicato da alcuni testimoni come dedito per divertimento a sparare ai piccioni, proprio con una carabina ad aria compressa. Dopo aver chiesto informazioni all'uomo, hanno appurato che effettivamente possiede l'arma in questione, di lecita detenzione poiché di potenza inferiore al limite oltre il quale viene dalla legge considerata arma da fuoco. L'uomo però ha negato ogni responsabilità pur ammettendo di esercitarsi al tiro al bersaglio dietro casa e mostrando ai poliziotti una sagoma artigianale sforacchiata in più punti ed appesa ad un albero. Non convinti però, i poliziotti gli hanno sequestrato due proiettili che, comparati dalla polizia scientifica, sono risultati identici a quello estratto dal corpo del gatto del vicino di casa. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animali e getto pericoloso di cose. Rimaniamo nella cronaca. Spacciava marijuana dentro l'azienda, per questo è finito in manette un operaio di 37 anni di una ditta di Banni di Lucca che nascondeva lo stupefacente sul posto di lavoro. Ad allertare i carabinieri della locale stazione, il titolare dell'azienda di Fegana che aveva notato un sospetto viavai di gente. Al sopralluogo, in effetti, lo stupefacente 869 grammi di marijuana è stato trovato in un'area, sotto diretto controllo del magazziniere. L'uomo è stato arrestato e questa mattina è stato condotto in tribunale per il processo per direttissima. Il giudice, valutate le prove, ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari per l'uomo, adesso in attesa del processo. Torniamo a parlare di qualità dell'area nella piana di Lucca. È di questi giorni la notizia degli sforamenti dei limiti di polveri sottili registrati dalle centraline ARPAT. In questo contesto si inserisce l'intervento del Comitato Aria Pulita, che interpella il Sindaco perché revochi l'autorizzazione degli impianti di San Marco. Silvia Toniolo. Allarme smog, la Regione Toscana inserisce la piana di Lucca nella lista delle aree a forte criticità. È di questi giorni la notizia degli sforamenti dei limiti di polveri sottili registrati dalle centraline ARPAT. Non si tratta di una novità, ma di un fenomeno che si ripete da diversi anni. Per queste aree soggette a forte inquinamento, le amministrazioni sono tenute a redigere i PAC, piani di azioni comunali contro l'inquinamento dell'aria. Ma evidentemente questi ultimi non sono ancora così efficaci, dal momento che Lucca e Piana sono tra le città con l'aria più inquinata d'Italia. Gli studi registrano un eccesso di mortalità dovuto a questo fattore rispetto alla media regionale, un più 7,9% per gli uomini, un più 5,1% per le donne. Questa premessa era necessaria per capire in quale situazione si inseriscono gli impianti a biomasse di San Marco e la nostra forte preoccupazione per la salute e la vivibilità nella nostra città, spiega il Comitato Aria Pulita, che si scaglia contro il governo per la scarsa lungimiranza a trattare le singole situazioni, gli impianti, come uniche e scollegate dal territorio dove verranno calate. Senza una prospettiva olistica, spiega, tutte le decisioni che riguardano interventi così invasivi sui territori possono essere giustificate perché tutti gli impatti visti uno per uno non superano i limiti normativi e non potranno mai essere fermati. È questa, secondo il Comitato, la causa dei fallimenti dei PAC e il motivo per cui si richiede al Sindaco, in quanto responsabile del benessere dei cittadini, la revoca dell'autorizzazione degli impianti di San Marco come di altri interventi inquinanti. Parola al mercato, una trasmissione ideata dal nostro editore e condotta dal nostro direttore, ha un successo straordinario. Seguendo i mercati di Capoluogo e Piana, riusciamo infatti settimanalmente a contattare centinaia e centinaia di persone. Ma estrapoliamo dalla trasmissione di stamani due gruppi di interviste che ci dicono cose che non conoscevamo affatto. La realtà delle extracomunitarie e degli stranieri che costituiscono ormai la parte preponderante delle avventure di questi mercati, con in testo un inedito. Gli albanesi che trascorrono il loro tempo in attesa di un lavoro che sembra non arrivare mai e la rabbia, la delusione, gli umori per l'ultimo esito elettorale. E' più facile in Italia giocare a domino o fare il governo? E' più facile giocare a domino. Da dove venite? Veniamo dall'Albania. E la mattina le passate qui sulle mura? Quando non lavoriamo, passiamo il tempo qua a giocare in domino. E' un gioco nostro tradizionale. E' questo volevo chiederti. In Italia non è molto giocato? Lo sappiamo. Giochiamo solo noi in Albania questo gioco. Il lavoro come va? C'è o siete costretti a passare tante mattine? Siamo tutti disoccupati. Da quanto? Io da un anno, lui da due anni, e loro senza lavoro, mai lavorati. E da quanto siete in Italia? Io da 93. 93. E' 20 anni. E' anche lui un anno prima di me. Abbiamo lavorato fino ad ora. In questo momento che c'è crisi, è inutile fare pubblicità. E' un gioco curioso questo per voi. Tutti che passano qua guardano questo gioco. Beh, c'è anche altra gente che a Roma in questi giorni qui sta studiando il domino o il dominio. Come farlo sul governo? Dominio è un'altra cosa. È un'altra cosa. Dominò è dominò. Dominio non lo sappiamo. Dominò. Sono povero, con tre fratelli, senza casa e lavoro aiutate la mia famiglia con un poco di soldi per l'amore di Dio. Da dove vieni? Senegal. 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 Quanto è che sei in Italia? Due anni. Due anni? Lavoro? No. Niente? Niente. Una casa, un po' di caldo ce l'hai? L'ho capito, l'ho capito in Italia poco, poco. Una stanza con chi vivi? Ce l'hai una stanza, un letto dove dormire? Pescia. A pescia? Sì. E vieni sempre qui a Lucca quando c'è il mercato? Grazie. Dai, coraggio, eh? Ciao, ciao. Bene, e questo dibattito qui con questa situazione che non si sblocca di incertezza? La vedo abbastanza male. Secondo me non ha vinto proprio nessuno. Ed è triste il fatto, secondo me, per l'Italia e per tutti gli italiani. Come ha vissuto queste ore post-elettorali? Abbastanza tranquillo. Come la vede la situazione di incertezza che si è generata? Eh, quella è grave, però andiamo avanti, vediamo come si svolge il tutto. Ma parlava di politica o di soldi? No, soldi. Siamo senza soldi. Chi ce li deve dare? Ma io c'avevo solo due spiccioli, l'ho dato a un senegalese poco prima. Non allungo le mani, però siamo lì vicini. Ma ora c'è il problema che risolve l'Italia, risolve ora, c'è Grillo. Penso che l'ho sentito dire, eh. Perché io, sai. Sì, è un nome che ho sentito alleggiare anch'io in queste ore qui, mi pare di averlo sentito. Grillo, deve essere uno di Genova, pensa. O Belen, è un genovese. Sì, sì. Speriamo che ci salvi lui o ci salvi un altro. Chi va al potere o uno all'altro è uguale per me. Basta che ci salvino, che ci porti fuori dal baratro. Questo è il problema. E ci paghi le pensioni, sono pensionato, ho già l'età, eh. E che devo dire, io politica non posso parlare di altre cose perché dopo mi arrabbio. Perché se guardo la televisione tutte le sere tutti hanno ragione. E chi non ha ragione siamo noi operaio, pensionati, eccetera. Perciò, che devo dire. Ieri sera presi l'Exotan, 30 gocce, per stare tranquillo. Da tanto che ho sentito i discorsi da televisione. E lei invece cosa ha preso al posto dell'Exotan? Io non prendo niente. Come era il clima quando sei entrato in comune a quello che viviamo in questi giorni di postelezioni? Era un altro modo di lavorare, un altro modo con gli amministratori. C'era più contatto, c'era più umanità, c'era una famiglia. Ora è tutto cambiato. Ora è tutto cambiato. Ora non c'è neanche la minima parte. Come le hai vissute queste elezioni di questi giorni? Queste elezioni di questi giorni? Io ero abituato all'elezione dell'ADC. Era un altro clima, un clima sereno. Mentre oggi giorno sono tutte varzellette, sono tutte cose, preinteressi, tutta roba che non... Anzi, io ci sono stato anche poco dietro. Prima invece ero sempre in prima fila via. Quando c'era Favilla, quando c'era Pacini, Maria Letta Martini, Angelini, io ero sempre in prima fila. Perché mi garbava? Ora non c'è più sfogo, non c'è più nulla, non c'è più succo. Ora pensano tutti agli interessi propri e basta. Che differenza c'è fra la Germania e il clima che stiamo vivendo in questi giorni qui in Italia? Allora qui prendono la vita, in Germania sono tutti per lavoro, gli italiani vivono per la vita e i tedeschi sono per il lavoro. E questa è una differenza grande della cultura. Questo è un messaggio positivo, insomma qui sente più emozione della vita. Sì, sì, tantissimi. Ma ora c'è un po' problemi con la gente politica e così, ma speriamo bene per l'Italia. Che dicono in Germania delle nostre elezioni? Questo non è possibile dire. Scusate. Come vede queste elezioni? Lei che ha partecipato anche a Lagone Politico, quindi è un esperto. Non sono esperto tantissimi anni fa, quindi sono al di fuori proprio di questo mondo. Però come osservatore, come cittadino, come le vede queste elezioni? Vedo uno spirito di novità incredibile che dovrà essere perfezionato due ore in avanti, ma insomma mi sembra che ci sia stato un cambiamento radicale rispetto alle vecchie maniere di fare politica. E dove si andrà a parare su questa strada? Non lo so assolutamente. Il risultato, avete visto il cartello alle mie spalle, è questa gente qua che aspetta la mensa, aspetta di mangiare qualcosa e mentre noi arriviamo il loro pudore le fa giustamente entrare. Noi non vogliamo naturalmente urtare la suscettibilità di nessuno. Siamo solo venuti alla ricerca della spiegazione di quel foglio che avete visto. Dichiariamo illegale la povertà. Si è riunito questa mattina alla presenza dell'assessore provinciale con delega alle politiche giovanili Federica Meneri e dell'assessore alla pubblica istruzione Mario Regoli il Parlamento degli studenti della Toscana. Il Parlamento, nato nel 2000 fino a di venire con la legge regionale 34 del 2001, una vera e propria istituzione rappresentativa degli studenti delle scuole superiori toscane, vuole promuovere la partecipazione dei giovani alle attività degli enti pubblici e si presenta come strumento di formazione e di confronto democratico. Volta a sviluppare progetti di cittadinanza attiva da realizzare in collaborazione con analoghi organismi istituiti in altri paesi e regioni. Tanti gli argomenti trattati in un affollato palazzo ducale dagli studenti lucchesi, dall'ambiente alle pari opportunità, dalla realtà locale a quella europea. Dopo la sigla, la pagina sportiva. Per lo sport, il calcio. Nel recupero contro il Rosignano, la lucchese sfodera 20 minuti di grande calcio e chiude la pratica. Finisce 3-0 per i ragazzi di Innocenti. Vediamo la sintesi montata da Luca Motroni. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la lucchese di Mister Innocenti. Il recupero contro il Rosignano non ha storia. I rossoneri entrano in campo con la testa giusta e chiudono la pratica in 20 minuti grazie alla doppietta di Berga e alla rete di Canalini. Ma andiamo con ordine. Mister Innocenti schiera una formazione attrazione offensiva con Chianese, Berga, Canalini e Petrone tutti assieme a comporre una sorta di 4-2-4 supportate a centro campo da Esperce e Capitana Liboni. I frutti giungono subito. Al decimo Petrone entra in aria ma viene steso. Il signore Andrini di Forlì non ha dubbi ed indica il dischetto. Si incarica della battuta Berga che non sbaglia per l'1-0 Rossonero. Per il Rosignano nemmeno il tempo di digerire il colpo che dopo 5 minuti è Canalini ad anticipare tutti su un cross dalla sinistra e battere l'incolpevole Famori che capitola per la seconda volta. Non c'è partita e al ventesimo è Berga mettere in cassaforte la gara inzaccando di testa il tris rosso-nero. Ci sarebbe anche l'occasione per il poker prima dell'intervallo ma l'estremo difensore locale salva su Canalini. Il primo tempo si chiude sul 3-0 per la Lucchese. Alla ripresa Rosignano prova a marcare la rete della bandiera sfruttando anche il rilassamento dei rossoneri con la testa già al match contro la Massese ma sono i lucchesi ad andare più volte vicini alla rete nel finale soprattutto con Canalini. Innocenti inserisce anche Gatto, da Silve e Petroni ma il risultato non cambia, vince la Lucchese tra reti a zero. Vittoria importante soprattutto per la classifica dove sale in terza piazza solitaria a meno quattro dal duo tutto cuoio per Piacenza. Per stasera è tutto, l'informazione torna domani alle 12.50 con la nostra edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.